Finché c'è vita c'è speranza. Germanese vuota 24, la Sampa ha già salutato la Serie A. Qui occhio al pallone giocato in avanti, verso Buongiorno. Sanabria, uno contro uno, va dentro da Vlasic, che carica il tiro e trova un gol bellissimo! Il vantaggio del Torino, al ventinovesimo, 1-0 Granata.